Signore e signore, questa è la Tunisia con Motoexplora. Sono venuto in Tunisia con Motoexplora per vedere questo spettacolo. Quest'esperienza del deserto è affascinante, sicuramente affascinante, ma soprattutto è bello viaggiare, è bello fare esperienze, conoscere cliente nuove, esperienze diverse. È bello staccarsi completamente da quella che l'ha avuto in quotidiana. Per noi è stata la prima esperienza con Motoexplora e la rifaremo sicuramente. Grazie a tutti. Grazie.